Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. L'espansione di un solido anticiclone sull'Europa centro-occidentale favorisce giornate con tempo stabile e soleggiato almeno fino all'inizio della prossima settimana, a parte qualche velatura in transito tra sabato e domenica. Temperature su valori estivi con ampia escursione termica, in particolare nelle valli. Il dettaglio oggi, venerdì 13 settembre, condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione, con temperature diurne ancora su valori estivi e marcata escursione termica nelle valli. Venti inizialmente deboli settentrionali con locali rinforzi fino a moderati, tendenti a disporsi in regime di brezza lungo le coste, con locali rinforzi dai quadranti orientali, sui capi di Ponente e da quelli occidentali e Levante. Mare poco mosso, umidità su valori medio-bassi, temperature massime in aumento lungo la costa tra 28 e 30 gradi, nelle zone interne tra 28 e 30 gradi. Domani, sabato 14 settembre, soleggiato, con velature in arrivo da Ponente a tratti estese, specie nella seconda parte della giornata. Locale formazione di nubi cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane. Venti deboli settentrionali con temporanei rinforzi fino a moderati al mattino, specie sul centro Ponente, tendenti a disporsi in regime di brezza lungo le coste, con locali rinforzi pomeridiani, in particolare sullo spezzino. Mare poco mosso, localmente quasi calmo, umidità su valori medi, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 20 e 22 gradi, nell'interno tra 12 e 14 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 28 e 31 gradi, nelle zone interne tra 28 e 30 gradi. Dopodomani, domenica 15 settembre, ancora dominio anticiclonico con cielo soleggiato su tutta la regione, seppur con velature a tratti estese. Nelle ore centrali, locale formazione di nubi cumuliformi, specie su quelli alpini, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Venti deboli settentrionali con temporanei rinforzi fino a moderati al mattino, specie sul centro della regione, tendenti a disporsi in regime di brezza lungo le coste. Mare poco mosso, localmente quasi calmo, umidità su valori medi, temperature minime in aumento lungo la costa tra 20 e 23 gradi, nell'interno tra 13 e 15 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 27 e 30 gradi, nelle zone interne tra 28 e 31 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. Buon fine settimana a tutti! Grazie a tutti!